quindi tracciate le linee rette entro cui far stare in un certo senso non dico assintoticamente entro cui adagiare ecco il nostro il nostro diagramma ebbene adagiamolo pure ecco vediamo ora il discorso della fase abbiamo sempre la g di j omega che è pari a 100 diviso j omega più 1 più j per 10 omega diviso 1 più j omega al quadrato ebbene anche la fase ha un decorso molto lineare del resto bode rettifica rettifica per definizione allora fase di 100 meno fase di j omega più fase di 1 più j volte 10 omega meno 2 volte la fase di 1 più j omega e quindi la fase di 100 è 0 perché è un numero reale la fase di meno j omega è meno 90 gradi più qua il rapporto fra parte complessa e parte reale è proprio 10 omega quindi più arco tangente di 10 omega meno 2 volte l'arco tangente di j omega di omega su 1 quindi di omega e facciamo lo stesso discorso adesso 10 alla meno 2 10 alla meno 1 10 alla 0 10 alla 1 10 alla 2 quanto vale la fase partiamo da 10 al meno 2 allora 0 meno 90 gradi non si tocca più l'arco tangente di 1 decimo che è più 5.7 meno 2 volte l'arco tangente di 1 centesimo che vale 1.14 per un totale circa di meno 85 gradi 10 alla meno 1 10 alla meno 1 allora 0 meno 90 chi lo tocca potremmo già dire che partiamo da meno 90 gradi poi più arco tangente di 1 centesimo che è 1 che è 1 quindi più arco tangente di 1 che è 45 meno 2 volte l'arco tangente di un decimo meno 11 il tutto uguale a meno 56 10 alla 0 9 0 meno 90 gradi 0 meno 90 gradi 0 meno 90 gradi e finisce lì 10 alla 0 abbiamo ancora più arco tangente di 10 quindi più 84 meno 2 volte l'arco tangente di 1 che è meno 90 perché l'arco tangente è meno 45 quindi per un totale di meno 96 gradi in 10 alla 1 0 meno 90 insomma lascio i conti a chi di safario in 10 alla 1 abbiamo meno 168 gradi e in 10 alla 2 circa meno 180 allora disegniamo il diagramma della fase in decadi 0 e poi tutti i valori negativi allora decadi 10 alla 0 10 alla 1 10 alla 2 10 alla meno 1 10 alla meno 2 segniamo i valori 10 alla 0 tutti i valori vanno da 0 a meno 180 quindi questo è meno 180 quindi questo è meno 180 questo è meno 90 e questo è 0 allora segniamo i valori allora segniamo i punti 10 alla 0 meno 96 più o meno qua 10 alla meno 1 meno 56 quindi 45 10 alla meno 2 meno 85 quindi da meno passiamo da meno 56 a circa meno 90 e questo è meno 85 che in realtà era spostato su giù da bastardo allora 1 2 meno 96 è spostato era giusto 10 96 e meno 96 poi 10 alla meno 1 meno 56 è buono e 10 alla meno 2 meno 85 è buono vedi sempre fidarsi di se stessi 10 alla 1 meno 168 qua e qua circa meno 180 andamento della fase truiche branca così e ragione finito